Arriviamo a mano destra, cambio mano, un ruolo davanti alla sedia, un cambio, due palleggi, flotti all'accento. Arriviamo il cambio, punta al centro dell'aria, dopo farò gli ultimi sensori in aiuto, quindi facciamo arretramento. Spira alasagio, un po' allestero, tre volte, le sanno piatto a terra, facciamo un aumento di riscaldamento, poi dopo andiamo. Arriviamo al gioco, è andato avanti, altri affinanzi iniziano. quando fai il cambio qui succede che qualunque ti fa la trappola e quindi devi tornare indietro la quarta parte 3 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 24 questo è il tuo compagno di squadra lui non si può muovere se tu non lo porti il lungo 9 volte su 10 fa questo e quindi che vuol dire anche qua l'averatore è sempre colpa di prime perché il lungo deve stare bene guardalo qua si è sempre colpa di lungo però lui non lo vedeva mai devi convincere qua qua bravo via bravo porto giù guardo su non c'è due palleggi e tiro già adesso e tiro da un quarto devi sempre convincere di pescare qua due palleggi un palleggio sulla sedia perché io sono tutto il pensore vieni qua cosa succede? se io so che il mio lungo qua si chiama show forte cioè si fa vedere forte se non riesco a passare dietro perché mi hai portato sotto bene faccio così perché lui ti rallenta allora io passo dietro giusto? tu lo leggi io faccio il curvo mi bruci di là se non sali fino al blocco io non faccio il curvo lo so che se non sali la do du dopo lo so che che gra ti 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 to ti 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 se non c'è il tuo agio, ci sono anche delle distanze eh! lo faccio spingi con il mio obiettivo e il mio obiettivo abbia meglio che stai in generale a spazio qui, qui, qui adesso mi cresco vai vado dietro bravo vai a ritrovo a pressarti stemmi qua vedo questa è la riga che mi metti se io passo fuori lui deve essere la riga io arrivo viene fuori vieni tu vai dentro all'altra parte ok com'è salita con il mio obiettivo con il mio obiettivo bravo molto nello bravo senza guardare il bravo senza guardare il bravo per avere il mio obiettivo se vede con la mente lui non fa niente vedere questo però è Grazie.